Ciao, vi ricordate di noi? Siamo Filippo e Francesca di Wild Ride on La Voretta. Tra il 2017 e il 2018 abbiamo fatto il giro del mondo in sella alla nostra mitica Valentina. Ora stiamo ultimando i preparativi per la nostra nuova avventura che abbiamo chiamato il Grand Nord e oggi vi mostreremo cosa ci ha fornito il nostro primo sponsor. Ecco qui il pacco che ci ha mandato la Camberg, azienda italiana Caspo 100% made in Italy. Restate con noi dopo la sigla, vi parleremo nel più secondo. Data l'esperienza del peggio precedente, questa volta l'abbiamo aiutato per un casco concluso. Bravissimo tesoro, così non mi voglio difetto, visto che questa volta ha l'intenzione di portarmi tra i vari posti e anche in Russia, in Mongolia, in Alaska, poi in India, eh? E comunque è anche una passione di sicurezza. Certo, perché tra l'altro non ci prenderemo più le sassate in faccia o i vari pizzicotti. E quindi, non ricordi questo? Esatto. Vediamo ora delle caratteristiche tecniche del Duke Sebole. Abbiamo una visiera di appannamento, che sarà molto ulde per i nostri spazi termini. Una mentoniera, che una volta che sta su, con il tasto di blocco evitiamo che accidentalmente torni giù. Poi abbiamo una visierina parasole, e diverse prese taglia. E poi tesoro, adesso che l'ho provato, devo dire che è davvero comodo, confrantevole e molto appoggiante. Sicuramente sarà pure molto caldo. Bene, prossimamente lo resteremo su strana. Nel frattempo ringraziamo la Kaber e la Pidugia. Grazie Kaber. A presto.